Com'è? Di qua? Ma si può passare dove sei te? Si può scendere qua? Ma che si fa Luigi? Ah non era finita in alto? No, dovevi scendere da lì e poi tirare sotto questo strato qui. No, no, l'abbiamo fatta. Si fa, si fa. La scorpa lo fa, la montesa non lo fa. No, 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 no. poi poi giù di qua? quando arrivi di piano devi girare dietro quel sassu qua dietro quello la? che muo bravo luigi hai spostato hai spostato anche bene se gli davi un po' un colpetto quella davanti eri giusto è bella come zona si impara a spostare un po' eh vabbè non è facile ma è meglio fare quella la a me piace quella curva la bella quella curva è un po' un po' un po' un po' un po' un po' è un po' un po' un po' un po' è un po' 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 è liquido Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.